Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua come promesso in compagnia di queste donnine allegre per ripercorrere la storia dello storico brand di GTA andando a giocare a Vice City L'ultima volta abbiamo fatto un episodio dedicato a GTA 3, qua è pieno di donnine allegre Vabbè, siamo nel quartiere proprio quello hot L'ultimo episodio abbiamo fatto uno speciale, diciamo speciale, parolone proprio immenso su GTA 3 Questa volta siamo su Vice City che essenzialmente non è altro che una fotocopia di GTA 3 con nuove missioni e nuove ambientazioni ma rimane il fatto che, così come è successo per molti di voi, anche per il sottoscritto il caro vecchio Vice City è uno dei capitoli più amati e che più ricordo L'unica cosa che mi viene in mente adesso è che porco Giuda com'è invecchiato male il suo gioco Perché la tipa, ecco, è invecchiato veramente malerrimo, non male Perché sinceramente me lo ricordavo un po' migliore di così Ho dovuto purtroppo, e dico purtroppo perché era una delle cose più fighe che aveva Levare la colonna sonora perché altrimenti qua su YouTube mi arrivano una quantità spropositata di avvisi di copyright Per cui ho preferito disattivare sin dall'inizio qualsiasi tipo di traccia audio Per cui solamente effetti sonori Ma rimane il fatto che questo mi sta riportando alla mente, devo dire, non tantissimi ricordi Perché porco Giuda mi sono accorto adesso Che saranno passati qualcosa come più di dieci anni dall'ultima volta che l'ho giocato Eh, ma sì... Mi fermo nel segno rosa, ecco Però rimane il fatto che, come poi... Che cosa devo fare? Passa attraverso la prima... Come poi GTA 3, devo ammettere che è ottimizzato per PC da fare schifo Perché? Perché la risoluzione fortunatamente è un pochino più vasta E perlomeno posso selezionarla a differenza di quello che accadeva con GTA 3 Però rimane il fatto che il pad non è minimamente compatibile E giocare a GTA Vice City con la tastiera è veramente un qualcosa di completamente abominevole Eh... ma rimane il fatto comunque sia Vice City è... eh... Sì vabbè magari si è... Eh, è passato sì di tempo Rimane il fatto che appunto Vice City è per molti uno, un capitolo a cui siamo molto affezionati Ed è un capitolo che, diciamo che ha mostrato all'epoca Quello che poteva essere il reale potenziale di... di questa saga Più di quanto poi non ha già... già fece il vecchio GTA 3 Diciamo che è il capitolo che ha dato un po' il via a tutto il fenomeno GTA Molto più di GTA 3 appunto Per questa sua grande colonna sonora Perché diciamo fu uno dei primi capitoli Se non proprio il primo Visto che GTA 3 non aveva una colonna sonora all'altezza A introdurre una colonna sonora di altissimo livello Con brani famosissimi, insomma C'era un'atmosfera veramente da urlo Che permise a tutti noi di vivere quell'epoca Un po' come se la vissessimo vivendo dal vivo Insomma Era un gioco che, se non ricordo male Aveva anche un gran bel set di missioni I personaggi come sempre erano estremamente caratterizzati Tutti molto carismatici C'erano veramente tante tante cose da fare L'unico aspetto che appunto non avevo minimamente considerato A distanza di tutto questo tempo È la veste grafica La veste grafica ragazzi È qualcosa veramente di angosciante Per non dire di peggio E onestamente al giorno d'oggi Io poi ripeto sempre la solita cosa Con tutte le remaster di merda Che ci propinano mensilmente ormai Alcune delle quali non hanno veramente ragione di esistere Non tanto di essere pensate Ma di esistere proprio Io non capisco cosa stia aspettando il mondo A chiedere una serie di remake su GTA Ma vi immaginate Vice City rifatto adesso Con la grafica di GTA V Cioè ragazzi sarebbe una cosa abominevole In senso buono ovviamente E credo vivamente che ci sarebbe anche una schiera di modder Disposti a lavorarci personalmente Senza lasciare neanche il lavoro a Roxa Insomma è qualcosa che secondo me Avrebbe veramente tanto tanto senso al giorno d'oggi Perché ci sarebbe veramente tanto da fare E tanto da mostrare alle generazioni che poi si sono perse Tutti questi straordinari primi capitoli della saga Chissà che un domani non ci accontentino Comunque sia Io qua se non ricordo male Vediamo se la memoria mi assiste un minimo Magari adesso se esco dalla macchina Esci dalla macchina Tommy Mamma mia Vabbè qua siamo mortissimi Siamo mortissimi No la polizia ha una mira ignobile Se io riesco a trovare un mezzo di locomozione per fuggire Forse Niente qua carica il pugno Qua mi guardo dietro Io poi con la Con la tastiera sono tipo Un decerebrato Perché Dove Perché ho perso 5 punti vita per un saltino Vabbè C'è un modo per correre a sto gioco Per pietà No non c'è Vabbè Prendiamo a cazzotti la gente Via Niente si sta Non ho possibilità di salvezza Non trovo una macchina neanche a pagare No vabbè Gli siamo andati proprio in bocca Fregagli la macchina Niente Non c'era verso Non poteva minimamente esserci verso Devo dire che però Adesso al di là di questa piccola parentesi In cui abbiamo fatto una figura abbastanza barbina Allora prendiamo subito l'ambulanza Andiamo a farci un giro No è vero Erano chiuse Sono veramente curioso di Riscoprire con voi tutta questa saga Perché l'idea di fare questi retrofalco È nata un po' per caso Ho cominciato con GTA 3 Per il semplice fatto che Rockstar È una delle poche compagnie Che permette agli appassionati Appunto di trattare I suoi prodotti su YouTube Per cui mi sono Inclusito anche per quello E GTA 3 fu Diciamo l'inizio di È stato l'inizio di questa rubrica Perché appunto ci sono affezionatissimi E tutto quanto Ma Non avrei mai pensato Che rivivere questa saga Con voi sarebbe stato così divertente Perché GTA Devo dire la verità Non l'ho portato avanti Poi dopo aver fatto il video Perché è veramente ingiocabile Su PC Questo Se riesco a capire Come usare Il pad Per giocarci Potrei anche farci un pensiero Per rigiocarmelo tutto Cosa folle Visto che ci apprestiamo A entrare in un periodo In cui sta uscendo Veramente di tutto Ma io Essendo un Gran bel nostalgico Di questa roba Ormai Veramente retro Credo che potrei Veramente farci un pensierino Comunque sia Sarà anche bello Settimana dopo settimana E vedere un po' Com'è cambiato GTA Perché qua già Si vede qualcosina in più Rispetto a GTA 3 Perché appunto Pur essendo praticamente Identico a livello strutturale È un gioco che ha introdotto Molto di più A livello di sceneggiatura Più che altro Perché c'era comunque Un set di missioni Molto più complesso Dei personaggi Se vogliamo Un po' più vari Rispetto a quelli di GTA 3 E in generale Diciamo che la struttura Era un po' Più spiccata Rispetto a quella Un po' rudimentale Ma comunque Splendere di GTA 3 Quindi direi A questo punto ragazzi Che possiamo anche Salutarci qua Spero che questo video Vi abbia strappato Come sempre un sorriso Spero che vi sia piaciuto Tornare nel passato Di GTA con me E ovviamente Vi do appuntamento La settimana prossima Per un nuovo episodio Di Retrofalco Che come sempre Sarà dedicato a GTA Per cui ragazzi Niente Ci vediamo Alla prossima Se magari riesco a A chiudere il video In bellezza Ecco Dagli una bella testata Grazie a tutti